ciao sono la tua tv e sono qui perché in arrivo la nuova tv digitale immagini belle e nitide si lo so assomiglio alla unziker me lo dicono tutti ma ora pensiamo ad aiutarti vai ai canali 100 e 200 se appare questa scritta siamo a posto altrimenti informati qui e scopri se hai diritto a un bonus per acquistare un decoder o una nuova tv veloce altrimenti rischi che tutto chiaro